Nicolò Gasparrini della Quinta B Meccanica presenta il talk dal titolo La forma del lutto. È lo stato mentale conseguente alla perdita di una persona, di un oggetto o di una condizione importante nella vita di ognuno. E purtroppo si ha spesso una condizione negativa di quest'ultimo. Sono qui questa mattina per dirvi che invece può assumere una forma diversa da quella che comunemente riteniamo. Per farlo parto col mostrarvi un'immagine che secondo me lo rappresenta, che è appunto quella dello Yin e lo Yang. Per chi non lo sapesse lo Yin e lo Yang è un simbolo che nasce nella filosofia cinese e sta a rappresentare la dualità presente in ogni elemento dell'universo, come per esempio fuoco e acqua, o giorno, notte, o vita e morte. Per me invece sarà il reale percorso interno che avviene in ognuno di noi dopo un evento come un lutto. Concentriamoci ora sulla parte destra, completamente nera e con una piccola circonferenza bianca. Questa è la parte che rappresenta il dolore dovuto a un lutto, che trova la sua definizione nello stato di sofferenza spirituale, soprattutto se dovuto ad un fatto ineluttabile, che condiziona duramente il corso della vita di una persona. Esistono due forme di lutto. La prima, in cui esso viene integrato gradualmente, e la seconda, che viene chiamata lutto complicato. Il lutto complicato è una forma di dolore molto intensa, che prende la vita di una persona tanto da bloccarla. Viene chiamato complicato perché chi lo subisce complica l'accettazione di quest'ultimo, dandosi delle colpe, per esempio, e allungando così il periodo di sofferenza. Secondo la rivista State of Mind, esistono cinque fasi nel lutto. La prima, che è la negazione, in cui appunto si ha una negazione del fatto accaduto. La seconda, che è la rabbia, in cui si ha un isolamento della persona e un direzionamento del dolore, che sia essa esterna o interna. La terza, che è la fase di patteggiamento, in cui si riacquisisce contatto con la realtà. La quarta, che è la fase di depressione, in cui si capisce che la morte è inevitabile e che non si è gli unici, purtroppo, a subire questo dolore. E l'ultima, che è l'accettazione, in cui si accetta il nuovo stile di vita. La fase più importante tra queste, sicuramente, è la rabbia. La rabbia è quel sentimento che tutti noi proviamo quando qualcosa non ci sta bene, quando vorremmo poter salvare qualcuno, ma siamo impotenti. Sì, la rabbia è quel sentimento che tutti noi proviamo di fronte alla morte. La rabbia spinge a stare soli. Però forse è proprio questo che può salvarci dallo stato di lutto. Sì, la rabbia porta a stare soli, porta a ragionare con la propria testa, a rialzarsi con le proprie gambe. Piano piano tutta quella rabbia diventa forza. Una forza non fisica, ma bensì un germoglio. Un germoglio che per me è il coraggio. Il coraggio di poter saltare un ostacolo che fino ad allora ci sembrava insuperabile. È un germoglio, però, molto piccolo e fragile, che può essere nutrito solamente imparando a conoscere se stessi. Uno dei fattori che mi ha aiutato a far crescere quel germoglio è stata la visione del video in cui Roberto Benigni parla della felicità durante il suo discorso sui dodici comandamenti. Ebbene, dice che la felicità è un dono e che l'hanno data a tutti noi quando eravamo piccoli. Ed era un regalo così bello che l'abbiamo nascosto. E molti di noi purtroppo l'hanno nascosta così bene che non si ricordano dove l'hanno messa. Però appartiene a tutti. Conclude il suo discorso dicendo che dobbiamo pensarci sempre alla felicità. Perché anche se lei qualche volta si dimentica di noi, noi non ci dobbiamo mai dimenticare di lei, fino all'ultimo giorno della nostra vita. Ebbene, con questa frase vuole dirci che la felicità esiste, bisogna solamente imparare a cercarla. Non so se ve ne siete resi conto, ma siamo passati da parlare di dolore e di lutto per arrivare a messaggi di speranza e di felicità, che sono rappresentati nel simbolo dalla piccola circonferenza bianca che vedete in figura, che sta a rappresentare appunto la speranza di ritrovare la felicità e il coraggio di iniziare a cercarla. Vorrei ora passare alla parte destra del simbolo, completamente bianca con una piccola circonferenza nera. Ebbene, questa è la parte che rappresenta chi da un lutto prende forza, che rappresenta quella luce che ci spinge in una nuova direzione. Nell'articolo la chiamano accettazione. Io preferisco chiamarla consapevolezza. Siamo infatti consapevoli che non possiamo accettare la morte di qualcuno, ma possiamo prendere forza dal nostro dolore, come una fenice che rinasce dalle sue ceneri. E poi per ognuno di noi nascita è diversa. C'è chi tramite la musica racconta la propria esperienza, come i cantanti shame, rancore o gesto. Chi tramite la poesia, come Giovanni Pascoli, ci racconta il dolore per la perdita del padre. E chi invece, come il centro dei Nelichianelli di Perugia, crea un capolavoro dal lutto aiutando tutte le persone che subiscono la loro stessa situazione. Ebbene, non tutta la parte a destra però è bianca. Anche qui abbiamo una piccola circonferenza nera. Questa sta a rappresentare quel tatuaggio indelebile che un lutto lascia all'interno di ognuno di noi. Quel dolore così forte che si è riportato a galla e infuoca ancora gli occhi. Però ora è lì, è fermo, immobile ed è controllato. Non è più lui che domina, ma tutto il bene che quel dolore ci ha portato. Avviandomi a concludere, penso che sia necessario citare una frase del rapper Mistamen che in una canzone dice, l'esperienza è la maestra migliore. Prima ti fa l'esame e poi ti dà la lezione. Ebbene, per me il lutto è proprio questo, un esame impossibile da superare fino a che non si capisce che è una lezione. La lezione che voglio darvi oggi è questa qui. Non credete che il lutto sia la fine o un punto d'arrivo. Il lutto è qualcosa che ci spinge in una nuova direzione. Perché sì, domani tutto comincia. Grazie.